Buongiorno. Sì, lo so cosa state pensando. Anch'io ci penso. Sempre, sempre, sempre. Medicina. Continuano ad estare a scalpore gli esperimenti di videoterapia alla nuova cura rivoluzionaria della dottoressa Mary Ann Quant. Ci colleghiamo quindi con... per il torcicollo. Grazie. Boston. Buonasera. Sono lieta di annunciarvi che la scienza ha fatto un altro grande passo avanti. Il raggio televisivo cura non soltanto il corpo ma anche la mente. L'abbiamo sperimentato su cavi animali e su noi stessi. Sto parlando dello stress, quella grave malattia che colpisce l'uomo moderno. Abbiamo sottoposto Gino, che è il nostro scimpanzee, a una serie di stress psicologici tipo il traffico, sottrazione di cibo, femmine, umiliazioni all'interno del suo clan. L'abbiamo ripetutamente svegliato durante il sonno con suoni di sirena e poi l'abbiamo curato. Come? Ve lo dimostro subito. Please? Munitevi di un televisore. Ecco, io mi rivolgo a tutti coloro che soffrono di stress, che sono angosciati, malinconici, che spesso hanno il mal di testa. Allora, sintonizzate il vostro televisore con l'immagine della subrette Carmen Russo. Ecco, benissimo. Ora, come potete constatare, la subrette Russo ha una particolarità molto evidente, cioè una specie di rigonfiamento all'altezza dei pettorali. Ora, con una certa decisione, dovete fare aderire la vostra fronte al rigonfiamento della Russo. Please? Ecco, benissimo. Fate tutti come faccio io. Ecco. Contatto. Respirate. Respirate profondamente. Ecco, sentite, vi state rilassando. Ecco che sta venendo una certa quiete tra queste curve materne. Sì. Attenzione però, dovete subito chiudere l'audio, perché qualsiasi frase della subrette potrebbe inibire immediatamente le vostre facoltà intellettive e l'applicazione deve durare non più di due minuti, mi rivolgo soprattutto ai soggetti maschili, per evitare gravi effetti collaterali. Ecco, per oggi è tutto da Boston. Buonasera. Interni. Un'incredibile e inusitata calamità naturale si è abbattuta stamane sulla capitale. Uno sciame di cavallette non meglio identificate ha invaso e occupato la sede del Parlamento Italiano. A causa del flagello il Governo, in blocco, è stato gentilmente ospitato sotto il tendone del Circo Orfei. I parlamentari hanno gradito la nuova sistemazione, così come l'ha gradita il pubblico, che continua ad affluire numeroso ai due spettacoli, pardon, dibattiti quotidiani. Vediamo il servizio del nostro inviato Enrico Mentina. Mentina? Mentina? No, solo delle gomme. Senta, io sono pedinata, sono pedinata dai funzionari della tv delle ragazze. Sa, scusi, ma che è questo il telegiornale? Dov'è Enrico? Cosa vi è fatto? No, senta, sono così contenta ad averla trovata, signora Lilli. Sono quattro puntate che sono qua fuori, il corridoio, col freddo e al gelo. Senta, io sono un'attrice. Sa, non vorrei dirle che sono senza lavoro, ho una situazione impietosa. Sa, la disoccupazione giovanile, la fame nel mondo. Io so cantare, so ballare, so recitare, so fare le spaccate, so urlare, so piangere, ridere. Signorina, sono d'accordissima su questo. Lei sarà sicuramente bravissima, ma questo è un programma di alta cultura, non è un varietà. Mi spiace, non posso aiutarla. No, signora Lilli, io ho un'idea pazzesca da proporle. Nessuno ci sente, nessuno ci può vedere, mi stia a sentire. Io ho da proporle una nuova sigla, una sigla che farà impazzire l'auditel. No, l'auditel è già pazzo di me. Ma questa sigla sfonderà i canoni della televisione, i dirigenti si butteranno per terra solo per lei, le apriranno tappeti rossi, senta, è una nuova sigla che nessuno ha mai visto al mondo. Solo noi ce la possiamo avere, io e lei, Lilli. Accetti, guardi, è pazzesco. Ecco per questa edizione è tutto. Ci vediamo sicuramente alla prossima edizione. Non vi disperate, tenete duro perché non vi lascerò mai.